No, non ci abbiamo tenuto troppo tempo il telespettatore di Nastese, ci scusiamo. Comandante, prima diceva che ci dobbiamo comunque abituare all'idea di avere questo personale per un paio d'anni, ma si prospetta l'idea di un concorso di nuove assunzioni? Questo può interessare un po' anche ai giovani cittadini che ci ascoltano? Beh, non è che lo fa il Comando Polizia Municipale, lo fa l'Ufficio Personale del Comune, io ritengo che stia per fare il concorso. Quante assunzioni? No, questo dipende dalle leggi finanziarie, questo non è possibile, però l'importante è partire con un concorso per poi avere una gradatoria che nel corso degli anni ci potrà consentire le assunzioni che di volta in volta la legge spesso si aprono delle finestre improvvise e si trovano i comuni che quando si apre la finestra non hanno la gradatoria di concorso valida e non possono fare nulla, poi passano degli anni in cui il personale va in pensione e magari si può assumere ma non hanno la gradatoria pronta e quindi bisognerebbe sempre fare un concorso dietro l'altro per avere comunque una gradatoria a cui attingere. E questa è naturalmente una buona notizia. Pronto? Prendiamo? Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, saluto a voi la redazione e tutti. Sì, prego. Una domanda al comandante. Sì. Io il 2 aprile, oggi mi è perduta una condivisione a giorni, in questi giorni. Il 2 aprile, in corso di Vittorio Emanuele, angolo Benedetto Petrone, sa quella strada che va verso Piazza Curlia? Sì, sì. Eh, era in atto un'ambulanza e i vigili ci fecero fare la manovra all'interno per poter passare l'ambulanza. E quel giorno... Di sera? Dopo le 21? Dopo le ore 21? Eh sì, il vigile ci fece entrare dentro per fare manovra e girare. Sì, dopo le ore 21? E ho fatto una contravenzione là. Chiedo scusa, dopo le 21 di sera? Eh, era quasi dopo le 21, sì. Difatti sul verbale è scritto... Cioè, invece di dare una... Cioè, il cittadino aiuta a fare... Ma che cosa c'è scritto? Scusi, concluda, sul verbale cosa c'è scritto? Eh, contravenzione... Cioè, non riesco a capire bene, però questi giorni mi devo mettere in moto per capire come era... No, allora... Va bene, grazie mille, grazie per il suo intervento. Magari a questo punto, ecco, può essere utile ricordare che c'è uno sportello... Dice il cittadino da una mano e poi viene punito. La multa gliel'ha fatta la telecamera, che non è che ragiona. Lì c'è una telecamera che multa tutte le auto non munite di passe che entrano dopo le 21 in piazza Chiurlia. Quindi è logico che ha preso la multa. Adesso gli è arrivata la multa, venga al comando, venga al front office e sponga che è stato indirizzato lì o autorizzato anche tacitamente da una pattuglia della Polizia Municipale e l'aiuteranno a predisporre un ricorso, sempre che la pattuglia, cosa che avverrà se il fatto è così come l'ha raccontato, diciamo a sua volta dichiari che effettivamente si abbia un riscontro, che c'è stato un incidente, un'ambulanza e che alcune auto sono entrate lì dentro quella sera. Anche perché presumo che a questo punto se erano diverse le auto ci saranno altre persone con lo stesso problema del cittadino. Dunque, comandante, lei diceva prima nel periodo estivo voi vi riversate sul lungomare. Ci sarà anche quest'anno la chiusura di due tratti del lungomare, quello all'altezza del Fortino e poi dal Fortino e dal Margherita al Porto e poi ancora una volta invece la zona del Faro di San Cataldo. Vi state attrezzando come vi state organizzando? Per quanto riguarda la chiusura di Imperatore Augusto, la decisione c'è già e si tratta soltanto di definire le date. Il cattivo tempo che abbiamo avuto fino ad ora non lo ha reso neanche urgente. Nel frattempo ci sono state delle operazioni congiunte tra noi e la Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei venditori abusivi che ha portato ad un certo numero di sequestri nelle ore serali e contenere questo fenomeno. Per quanto riguarda la chiusura di San Cataldo ci stiamo ancora lavorando. Nel senso che ovviamente lì si sono avuti dei contatti con i residenti che sono venuti in comune a esporre questa esigenza. Poi però le esigenze sono anche diversificate tra i residenti, fra loro, tra le attività che sono sul lungomare. Quindi ancora si deve decidere se ci sarà una chiusura e in che termini. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Come sono il comandante? Io sono un residente del quartiere San Cataldo. Sì. Proprio a ciò che si riferiva al comandante prima. Io capisco che le attività devono lavorare, tutto ciò che vogliamo. Ma è una cosa impossibile che matematicamente, specialmente i giorni di festa, il sabato e la domenica, rimane una lingua di spazio sulla strada. Perché le macchine in doc e triplica fila. Io che abito sono costretto che ho un passo per andare in garage. Il sabato non posso entrare più. Il soccorso è lasciare la macchina all'interno per entrare dentro casa mia. Perfetto. Io, e questo è un problema che si verifica ogni anno, però non c'è mai una soluzione a questo problema. Grazie, grazie mille per il suo intervento. Quello della sosta selvaggia è spesso un dramma per i cittadini. In realtà mi sembra che parli di un problema diverso da quello che è stato affrontato con quel comitato di cittadini che è venuto in comune. Nel senso che parla dell'assemblamento nel fine settimana di auto che ovviamente va a danno dei residenti. Noi si è parlato di una chiusura nelle ore serali per evitare l'altro fenomeno, cioè di quell'assemblamento straordinario che avviene dopo cena e che è di contorno agli arrosticini, ai venditori abusivi, le fornacelle e via dicendo. Su questo stiamo lavorando. Diciamo che per l'assalto diurno c'è poco da fare. Purtroppo chi abita sul mare sa che vanno altri. O si introduce una zona a traffico limitato, una zona a sosta regolamentata. Il cittadino parlava anche di doppia e tripla fila? Sì, però quella avviene la sera, non durante il giorno. Mi è sembrato di capire che lui non facesse solo riferimento al problema serale. Sul problema serale ci stiamo lavorando. Un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto? Pronto, sì. Buonasera. Prego. Senta, voglio parlare al comandante. Prego. Comandante, lei potrebbe avere tutti i vici urbani. 24 ore su 24, dandogli in dotazione una macchina fotografica e dandogli il 5% delle infrazioni pescate, anche fuori servizio. Vediamo che tutta la città si mette a posto perché questo è un assismo enorme, perché si avvalgono del fatto che i vigili qua, i vigili là, è sbagliato. Io sono 45 anni che guido, in tutta la... 45 anni, due infrazioni ho fatte, due di vie di soste. Il resto, se io sbaglio, devo pagare, non esiste perché bisogna essere educati, sia nella strada. Questa gente che passa col sebofro rosso, che passa avanti alla incroce, ti manca il precedente, telefonini... La ringraziamo, la ringraziamo per il suo intervento, siccome insomma ci avviamo alla chiusura di questo spazio, vi prego di essere sintetici. Beh, comandante, il cittadino intanto ha fatto un appello alla legalità e al rispetto delle regole, poi ha lanciato anche un'idea, alla fine simpatica, non so quanto praticabile. Coinvolgere in qualche maniera tutti, anche i cittadini, facendo fotografie, alle infrazioni, però danno una piccola percentuale sulle multe, le sembra una ipotesi praticabile, seppure un'idea simpatica. No, io ho capito che lui voleva dare la percentuale ai vigili, ai vigili, fuori orario, però diciamo si potrebbe stare. Ma una volta c'era, fino al 78, esisteva la possibilità di dare una percentuale della contravenzione agli agenti accertatori. Dopo fu istituito il contratto nazionale che introdusse il principio dell'onnicomprensività, cioè lo stipendio escudeva qualsiasi altra forma di incentivo. Altri paesi l'hanno sperimentato queste forme con grandi risultati, quindi io sono perfettamente d'accordo con lei che si risolverebbero tanti problemi. Purtroppo aumenterebbe l'antipatia da parte dei cittadini, se i cittadini dovessero percepire che c'è una sorta di speculazione. Dovrebbe essere controbilanciato da dei controlli seri, adeguati, per evitare che ovviamente possano esserci degli eccessi. Per il resto, diciamo, siamo perfettamente d'accordo che le persone che si lamentano che i vigili sono troppo sceriffi o che fanno troppe multe, diciamo, non hanno proprio ragione. Nel senso che basta che ognuno servi la legge e tutto andrebbe meglio. Comandante, con l'arrivo dell'estate si ripropone il problema delle fornacelle e anche dei tanti abusivi che poi si riversano sul lungomare. Proprio per questo, lo ricordiamo in qualche modo, anche per questo era stata lanciata l'idea di chiudere il lungomare, proprio per avere un maggiore controllo. Vi state attrezzando in qualche modo? Avete già notato che il fenomeno si è ripresentato con il primo caldo? Sì, diciamo, è un fenomeno che tende a peggiorare perché la situazione economica e sociale è tale per cui purtroppo molte persone che non hanno lavoro si improvvisano anche questo genere di attività che si manifesta non soltanto sul lungomare d'estate ma anche quando abbiamo qualche festa, qualche manifestazione, qualche concerto, quindi diventa sempre più difficile contrastare in poche ore una massa così enorme di abusivi. La soluzione della chiusura è un modo appunto per prevenire e per fare filtro su queste presenze anche riducendone, diciamo, la clientela in un certo senso, selezionandone la clientela e l'ambiente in cui operano. Quindi, senza altro, ho già detto che ci sarà la chiusura del lungomare fino al castello, a 4 novembre al castello e contemporaneamente ci saranno ancora i controlli insieme alla questura. Siamo in chiusura ma soltanto un altro flash. L'anno scorso sono anche state multate delle famigliole che avevano l'abitudine, come succede spesso a Bari, di allestire dei veri e propri gazebo sulle spiagge cittadine. Questo succede, ripeto, spessissimo sul nostro litorale. Farete anche dei controlli quest'anno? Sì, l'ordinanza della Capitaneria vieta di fare il fuoco, il barbecue, accampamenti sulle spiagge. Quindi, siccome noi siamo presenti sulle spiagge, almeno sulle spiagge comunali, o spesso veniamo chiamati anche su altri strati del lungomare, le nostre pattuglie intervengono, fanno smontare e se non smontano fanno la sanzione. C'è anche nel periodo dei giorni di ferragosto, proprio si fanno le vacanze, si fanno la villetta con la tenda, si accampano su tutto il lungomare e siamo costretti a intervenire. Ricordo delle foto molto significative, che insomma sono immagini che conosciamo frequentando il lungomare di Bari. Siamo in chiusura, io saluto e ringrazio il comandante della Polizia Municipale, Stefano Donati, per essere stato con noi e per essersi sottoposto alle domande e anche alle critiche, talvolta costruttive, dei cittadini. Grazie comandante. Grazie a voi. Invece voi ricordatevi che il prossimo martedì torna l'SOS, sempre su Telebari, sempre alle 15.30, in compagnia del Presidente dell'AMI Gianfranco Grandagliano. Al prossimo martedì, intanto restate con noi su Telebari e buon proseguimento di giornata. Al prossimo martedì, intanto restate con noi.